Da qualche giorno Dagnone sta suscitando interesse quella che ha tutta l'aria di essere la tavola osca, il prezioso reperto individuato nel territorio di Capracotta che ha permesso agli studiosi di ricavare informazioni importanti sui sanniti. Esposta a Palazzo Bonanni nel centro storico sta destando molta curiosità perché chi mastica un minimo di storia locale sa benissimo che non dovrebbe trovarsi lì bensì al British Museum. È stata forse data in prestito dal Museo Londinese oppure solo una copia? Non si sa, qualcuno ha ipotizzato che in realtà sia questa l'originale, non a caso il CNR ha già dato il via a una serie di accertamenti. È vera o è un falso dell'Ottocento? Questo è l'enigma che il CNR sta risolvendo, speriamo che entro un anno risolva attraverso almeno quattro esami diversi, quindi non sta a me dire se la tavola Donofrio Amicarelli sia originale, sia osca, sia quindi sannita del secondo terzo secolo avanti Cristo o è dell'Ottocento. Certo a questo punto siamo ad un 50% di possibilità, quindi questo mette in forte dubbio l'autenticità della tavola che sta al British. Ma come nasce questo enigma? Perché ci sono dei dubbi? Per capirlo bisogna tornare indietro nel tempo, quando cioè la tavola osca fu acquistata per essere poco dopo rivenduta. Tutto l'enigma parte dall'ora foagnonese Vincenzo Paolo Donofrio. Ora lui una volta acquistata a Capracotta la tavola osca trovata a fonte del Romito ne fece una copia, lo sappiamo, da suo figlio Tito. Ha venduto al Castellani di Roma nel 1863 la vera o la falsa? Quella di Roma poi è finita al British dieci anni dopo quasi e l'altra, l'esemplare che ora abbiamo recuperato e abbiamo avuto in prestito dalla famiglia Amicarelli è finito agli eredi per l'appunto di Vincenzo Paolo Donofrio che la detengono almeno da 160 anni. Nel dubbio e in attesa del verdetto del CNR tanto vale la pena fare un salto ad agnone e farsi una propria idea. La tavola osca, vera o falsa che sia, resterà esposta a Palazzo Bonanni fino al 31 agosto del 2016.